1, 2, 3, 4 Eccomi qui ragazzi! Come promesso dopo aver dedicato l'intera giornata alle pulizie di casa Doccia fatta, capelli sistemati diciamo E adesso sto indossando un completo di FGM04 Tra l'altro vi ho mostrato anche prima Sono dei completi in edizione limitata Quindi dureranno pochissimo nel loro sito Quindi approfittate, correte subito a dare un'occhiata E sono dedicati ai vizi capitali Ad esempio vi faccio vedere la card Quello viola, che mi piace tantissimo il viola Ed è dedicato alla superbia Questo verde invece è dedicato all'invidia Mi sa che lo userò più spesso Allora vi mostro come è il leggings Allora modello all up Quindi sempre effetto push up al lato di Senza scritte dietro Mentre il top si chiama goat Ha questo taglio sul davanti molto molto sexy I pezzi vengono venduti singolarmente Quindi potete creare voi il vostro outfit Il top è disponibile anche in nero Io vi consiglio però di prenderlo coordinato Perché è veramente molto bello Tra l'altro sul sito di FGM04 Ho sempre tantissimi sconti In questo momento il secondo pezzo Meno caro lo pagherete al 50% di sconto E con una spesa minima di 95 euro Il regalo sempre i leggings teenager Che amate tantissimo E con il mio codice regalo Rosie ok Il regalo uno scaldacollo Pazzesco Perfetto per questa stagione Molto fredda Vi lascio come sempre il link Vi mando un bacione E buona serata Grazie a tutti Ciao